Da Radio Speranza, la radio della diocesi Pescara Penne, 87,6 MHz, un caro saluto da Licio di Biase. Oggi per la nostra rubrica Libri e dintorni incontriamo Licio di Biase, certo non è uno scherzo. Parliamo del mio libro La cucina pescarese nel tempo, ma avremo la straordinaria presenza di Cristina Mosca, bravissima scrittrice, docente, esperto e nagastronomo, che ringrazio veramente di cuore per la presenza e per la cortezza e partecipazione. Grazie, grazie a te per l'invito. Bene, questo libro mi piace parlarne proprio con Cristina perché lei ha una grande competenza in materia enogastronoma, è stata giornalista, adesso non l'è più, però si è dedicato tantissimo il suo tempo alla ricerca degli aspetti della cucina della nostra regione, per cui mi piace confrontarmi con Cristina. Allora, cosa ne pensi? Allora sì, intanto grazie di nuovo per avermi invitata. Sì, l'enogastronomia ha fatto parte fortemente, la cultura enogastronomica abruzzese ha fatto parte fortemente della mia vita per otto anni, fino a sette anni fa, fino al 2015, dirigevo Ciccom Magazine e mi occupavo di comunicazione nel campo e mi piaceva andare alla fonte delle informazioni, alla fonte del prodotto, all'origine del prodotto, all'origine delle nostre abitudini, perché spesso un'abitudine poi si incarna talmente nel quotidiano che ne perdiamo di vista le origini appunto. E vedo quello che mi è piaciuto molto, il tuo libro, edito da Tabula Fati, poche settimane fa, se non sbaglio, è uscito, perché è l'operazione che fai anche tu, vai all'origine delle cose, dividi il territorio pescarese in cinque luoghi, degli otto che sei abituato a raccontare con la tua grande storia, hai scelto cinque luoghi, e hai fatto un'operazione molto utile, perché per ogni luogo hai diviso, hai parlato innanzitutto delle origini, inserendo documenti a costo di imporli, perché su questo ci prendiamo un po' in giro io e te, il tuo estinto archivistico a volte ha la meglio, però è un archiviare importante, perché adesso c'è una pubblicazione recente che ha quel documento del 1800, del 1950, quindi scherzo spesso con te su questo, però è un'operazione in realtà utile di rinnovo e di cristallizzazione nel tempo. Hai scelto questi cinque luoghi, ne fai una storia, ne tracci una piccola storia, e poi parli delle sue abitudini alimentari, e vai molto indietro, riesci a parlare del 1600, riesci a parlare del 1500, hai preso documenti anche antichi, c'è un bellissimo corredo, un bellissimo repertorio fotografico, si fanno un po' di salti nel tempo, però anche questo aiuta a capire come si è viaggiato, come si è cresciuti, o come non si è cambiato e fatto, perché ci sono alcune modalità che sono rimaste poi nel tempo. si parla di cibi che sono rimasti ancora fortemente radicati alle nostre abitudini, come la porchetta, i pranzi natalizi, quello che si mangiava nei pranzi natalizi, le polpette. Ecco, una curiosità che viene è quali sono le scoperte più spiazzanti che hai fatto mentre redigevi, scusate, questo libro? Beh, la scoperta più interessante è il capitone, scopro che Pescara, nell'800 soprattutto, era la capitale del capitone del regno di Napoli, una cosa per noi veramente impensabile. Sì, anche Gabriele D'Annunzio, in un suo sonetto, aveva parlato, scrivendo da Arcachon, che aveva nostalgia del capitone col pezzo di peperò, insomma, aveva parlato del capitone, però mai mi sarei aspettato che veramente Pescara fosse nell'800 la capitale del capitone del regno di Napoli. Questo aspetto è stato un aspetto che mi ha veramente incuriosito, poi ho cercato anche di approfondire i temi e gli argomenti e ho individuato il motivo. Cioè, a Pescara dal 1500 in avanti, si insediarono molte famiglie provenienti dalle Marche, dal Veneto, ma soprattutto dalle Miglia. E quindi queste persone, queste famiglie, ma soprattutto poi nella seconda metà del 1500, quando arrivò la mano d'opera per la realizzazione della piazzaforte, erano molti emigliani che rimasero qui. Misero famiglia qui, si sposarono con gente del luogo e chiaramente conservarono il rapporto con il loro territorio, l'Emilia Romagna, Comacchio, e quindi da lì si mise in moto una dinamica di commercializzazione di questo prodotto, che veniva appunto portato a Pescara, diciamo i primi di novembre, poi venivano ulteriormente messi nella condizione di crescere, di maturare, e poi a sottonatale partivano i carri dal sud, soprattutto da Napoli, e venivano ad acquistare questi capitoni. È un fatto straordinario che, sì, sapevamo che si parlava, che nella cucina pescarese c'era questa tradizione del capitone a Natale, ma non che Pescara fosse la capitale del capitone. Questa è stata la cosa che mi ha colpito di più. Come nasce questo libro? Lo scopriamo alla fine in realtà. Allora, io scrivo libri di storia, saggi storici, biografie, e mai mi sarei avventurato in un argomento come la cucina che non mi appartiene. Poco più di un anno fa partecipai a una gara di Paolo Minucci, politici ai fornelli, con una ricetta apparentemente molto semplice, la pasta col tonno, che tra l'altro è una ricetta che a casa prepara mia moglie, ed è l'unico piatto di cui avevo una piccola conoscenza. Però non è solo pasta col tonno, è un po' articolato, che adesso poi ne parleremo alla fine. Vabbè, partecipo a questa gara e vinco, cosa molto strana perché c'erano altri competitor che avevano piatti molto più articolati, però alcuni esponenti della giuria poi mi hanno spiegato il motivo di questa affermazione. E da lì comincia Paolo Minucci a spingermi, a dire no, tu adesso devi scrivere un libro di cucina. Io gli sottolineavo la mia non conoscenza dell'argomento, però poi, riapprofondendo la storia, le dinamiche storiche della città, perché questo è un libro della città di Pescara, e ho constatato come i vari processi storici hanno determinato delle stratificazioni anche di carattere non gastronomico. Ai colli, perché nel corso del 1600 arrivarono molti contadini poveri del Terramano che si insegnarono ai colli, quindi vecchia Castellammare, chiaramente portando loro abitudini, conoscenze, tradizioni e anche le loro sensibilità enogastronomiche. E poi Borgo Marino Nord, che si articola con tante famiglie che nella seconda metà del 1800 arrivarono dal Tronto, Giulianova, San Metto del Tronto, e così poi l'area della piazzaforte ha una storia a sé, perché io la ritengo una delle aree più contaminate del Regno di Napoli, perché in quello spazio sono transitati, ecco, come ho detto prima, marchigiani, emiliani, veneti, ma poi gli spagnoli, gli austrici, i francesi, le truppe del Regno di Napoli con soldati dalla Calabria, della campagna, sono passati veramente personaggi di ogni territorio. E poi tutta l'area fuori la piazzaforte, quindi se ai colli c'è stata questa grande influenza terramana, tutta l'area fuori la piazzaforte, chiamata Villa del Fogo, ma fino a San Silvestro, è chiaramente di estrazione chietina. Ecco, queste sono state le differenze del nostro territorio. Ecco, differenze che ho ricercato proprio sulla base di questa sollecitazione di Paolo Minucci, perché lo voglio dire che questo libro nasce grazie alle sue sollecitazioni. Ecco, tu hai cominciato a fare una panoramica, infatti ti avrei chiesto di farla, quindi da Castellamare, che oggi pesca raccogli, Castellamare pianeggiante, Borgo Marino Nord, piazzaforte di Pescara, Villa del Fuoco. Cosa ti ha colpito di più? Cosa abbiamo perso? A parte il Capitone, cosa di queste tradizioni ti sei accorto che abbiamo perso? E cosa vedi che invece è più ricorrente, che non ce le siamo liberati? No, intanto non ci siamo liberati della cucina teramana, perché ai colli la cucina teramana è fortemente radicata nel territorio. Ho toccato con mano, tocco con mano questa particolarità, perché la mia famiglia è radicata ai colli dal 1700 e quindi dalla mia bisnonna, mia nonna, mia madre, insomma, c'è questa ripetizione della cucina teramana. Ma voglio sottolineare che la cucina teramana noi abbiamo preso soprattutto, la zona di colli ha preso soprattutto, un aspetto, che è quello del riuso, del quasi riciclo, avendo come riferimento le virtute teramane. Ecco, la di colli ci sta la chaudelle, per esempio, cioè il pane raffermo, bagnato con l'acqua, arricchito con olio e pomodoro. Ma il pane raffermo, che viene quindi riutilizzato, qui chiaramente era una cucina, io l'ho definita umile, perché questi contadini che provenivano dal teramano erano contadini poveri, altrimenti sarebbero rimasti nei loro paesi, Bisenti, Arsita, Roseto, Giulianova, eccetera, Montepagano. Invece vennero perché avevano bisogno di lavorare. E siccome la piazzaforte aveva determinato un fatto incredibile, nel corso del 1500, l'area del centro, oggi centro storico, che invece a un certo punto fu l'area che inglobò la piazzaforte, passò nel giro di qualche decennio da, diciamo, 200 persone a 1000 persone. E poi, quando la piazzaforte diventò operativa, le persone diventarono 2000. E quindi lì c'era da fornire viveri. E quindi, i Davalos cominciarono a dare in enfiteus i terreni, soprattutto la zona collinare, per fare in modo che ci fossero le coltivazioni, l'allevamento, per fornire i viveri alla piazzaforte. Ecco, quindi, la piazzaforte ha determinato lo sconvolgimento del territorio e la creazione delle premesse per la città di oggi. Bene. Allora, adesso la solita pausa che ci chiede il nostro regista Davide De Amicis e poi riprende. Vi ho detto poche settimane fa da Tabula Fati e la cucina pescarese nel tempo. Come si mangiava a Pescara e a Castellamare? E stavamo parlando dei cinque luoghi in cui hai diviso la città di Pescara e le loro tradizioni culinari e le origini di queste tradizioni. Voglio chiederti, il peperone è anche una parola chiave di questo, un leitmotiv. Sì, noi, io, fino a cinque, sei anni fa non sapevo l'esistenza del termine per fellona. Non avevo mai sentito, non avevo mai sentito questo termine, ripeto, pur appartenendo a famiglie che ormai hanno una radicata tradizione di presenza nella zona dei colli. E ho voluto approfondire questo aspetto e ho capito che questo termine è un termine che proviene dal cosiddetto Abruzzo Citerriore confrontandomi con degli esperti nella materia perché, lo ripeto, io non sono un esperto, sono uno storico e poi, insomma, sono così un po' bravo a rintracciare, come hai detto tu, archivisticamente tutta la documentazione del materiale e poi a collegarlo. Ecco, quindi, per esempio, l'utilizzo dello ferfellone ai colli non lo usiamo. Recentemente, nel corso del Novecento, la Marina Sud ha cominciato a utilizzare il ferfellone nel brodetto, ma non è un prodotto che veniva utilizzato tradizionalmente per fare il brodetto. È un'introduzione nel corso del Novecento e invece le zone così, Villa del Fuoco, ma soprattutto San Silvestro utilizzano normalmente lo ferfellone per quasi tutti i piatti, quelli che, diciamo, ne richiedono intervento e l'uso. Ecco, quindi, è un fatto particolare. Noi parliamo comunque di una città piccolissima, non è una città grande, piccola, non solo con la popolazione c'è non di meno abitanti, ma anche come dimensione. Però questo fiume, il discorso è il fiume che ha diviso il territorio in maniera notevole tra la zona collinare di Castellammare, tra l'area che oggi chiamiamo centro storico e che era l'area della piazza Forte, San Silvestro che è sempre stata come area collegata a San Giovanni di Tiatino e quindi al versante Chietino e hanno avuto nel tempo delle forti differenziazioni. Poi, la guerra e soprattutto la ricostruzione post-ebellica ha fatto smarrire queste diversità. Un aspetto che mi ha molto incuriosito, a un certo punto viene nominato un volumetto di Plinio Pelagatti Gioia dei Vivi e la Villa del Fuoco e mi ha colpito noi parlava del 1230 e a un certo punto dice mia madre aveva l'abitudine di rispettare rigidamente un menù settimanale da lei stessa programmato. Ricordo in particolare i piatti di alcuni giorni. La mamma il lunedì era solita cucinare sagne e fagiore. Le sagne o le tagliarelli preparati da lei e una salsa ottima con l'oliva oltre ai fagioli costituivano gli elementi essenziali del mio piatto preferito del lunedì. Inoltre, il giovedì il piatto del giorno lei stessa preparava sin dalle prime ore del mattino. Allora mi chiedono nel 1930 già era giovedì gnocchi ma perché? Da dove viene questa abitudine? Allora, questo è un approfondimento che faremo successivamente però evidentemente così qualcuno ha sostenuto però non l'ho scritto perché io poi devo avere la certezza quando do una notizia al punto di vista storico che c'era questa tradizione di avere di preparare un piatto pesante un piatto sostanzioso il giovedì perché poi il venerdì soprattutto negli ambienti rurali o meglio soprattutto nella zona costiera il venerdì si mangiava il pesce e quindi era un prodotto non molto sostanzioso può essere questo il discorso perché poi il sabato era trippa perché i macellai lavoravano la carne c'era i residui e si usava per 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 la trippa e perché poi la domenica si mangiava la carne cioè più o meno negli ambienti così diciamo un mondo rurale perché Pescara era un mondo rurale la zona collinare era totalmente rurale con una produzione straordinaria di vino di olio e di grano tant'è che il vino di Castellammare era un vino tenuto in grande considerazione e riportato anche su tanti documenti così come lo dico anche questo ho trovato abbastanza strano soprattutto la zona di Castellammare la presumo anche la zona di Pescara verso la Tiburtina Arancitelli erano aree con degli grandi aranceti tant'è che l'aurum nasce utilizzando le arance quindi è un prodotto a chilometro zero a quel tempo cioè parliamo degli anni venti di un secolo fa un secolo fa l'aurum nasce utilizzando i prodotti a chilometro zero perché noi avevamo gli aranceti e quindi è un fatto particolarmente e poi tra l'altro i proprietari insomma i distillatori di quella fabbrica utilizzano per esempio la Mentucci San Silvestro e quindi siamo ancora con l'utilizzo di prodotti a chilometro zero ecco quindi sono elementi che mi hanno fatto riflettere cioè è una cucina come dire a cui do una spiegazione storica sia la cucina pescaresa nel tempo sia a fronte del cuore che è un libro che anche questo hai pubblicato di recente entrando questi libri profumano sono ambientati qui nel pescarese a Pescara e profumano di liquirizia cosa ne è stato di tutta questa liquirizia sì 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 allora anche lì siamo a chilometro zero perché la Saila perché la Menozzi perché sono sono fabbriche che hanno avuto una grande una grande diciamo importanza a livello commerciale a livello internazionale perché c'era la liquirizia qui e prima di Menozzi e Saila noi avevamo a Viale Bovio il padre di Leopoldo Muzzi Michele Muzzi che aveva una fabbrica di liquirizia cioè quindi è un prodotto che ci appartiene perché il territorio era ricco di liquirizia addirittura padre Serafino Razzi 1574 se non sbaglio vado a me secondo me è il 1500 attraversando la zona pianeggiante di Pescade a quel tempo di Castellammare andando alla piazzaforte verso Città Sant'Angelo dice di raccogliere radici di liquirizia che un contadino stava tirando fuori bene allora mentre ci avviamo alla conclusione quali sono gli appuntamenti che aspettano che aspettano questo libro appuntamenti allora domenica 12 marzo c'è l'Accademia della Cucina le due sezioni di Pescara che faranno un hanno organizzato un pranzo con la presentazione di questo libro e la cosa mi fa molto piacere perché insomma l'Accademia della Cucina che fa questa operazione e sono sono felice però voglio dire io mi sono confrontato con Mimmo D'Alessio e Cottino di Sipio per affrontare gli argomenti non di mia stretta competenza sulle ricette e Mimmo insomma con Mimmo ho avuto veramente un bel confronto pure Cottino però Mimmo ha fatto questa questa prefazione di una con un titolo veramente molto 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 invitante La Cucina che cammina ed è proprio questo il senso del libro La Cucina che cammina bene quindi diciamo possiamo chiudere con questa considerazione io questa rubrica è una rubrica che conduco io ma questa sera e quest'oggi mi è stato stato bello così avere un confronto con te Cristi perché ti ritengo veramente dal punto di vista giornalistico una delle figure più più preparate sulla materia enogastronomica io mi sono divertito a scrivere questo libro contrariamente mi sono anche divertito ma è stato molto più complesso fronte del cuore di cui ho parlato perché fronte del cuore ho impiegato a scriverlo sei anni invece questo tra quattro mesi allora grazie Cristina da Radio Speranza la radio della Gioci per Scarapenne un caro saluto da Licio Di Biase e da Cristina Mosca grazie grazie